In attesa che la produzione vada al regime seppur a scartamento ridotto per ridurre al minimo i disagi alla popolazione, la carel giudiziaria sulle fonderie Pisano di Fratte è tutt'altro che risolta. Dopo la decisione del riesame di concedere alla proprietà dell'azienda storica salernitana di riaprire l'impianto, disponendo come richiesto dei legali scalato e buongiorno il dissequestro della struttura, la procura sta valutando il ricorso in Cassazione per chiedere invece nuovamente i sigilli per l'impianto di Fratte. L'udienza non dovrebbe essere fissata prima di un mese e i tempi potrebbero non essere brevi. Da verificare in caso di ricorso alcuni aspetti alla base del sequestro revocato richiamati dal riesame ad iniziare dalla normale tollerabilità che per il giudice per le indagini preliminari Stefano Berni Canani sarebbe stata superata, al contrario di quanto affermato invece dal riesame che ha anche ribadito che i livelli di inquinamento, in base ai rilievi ARPAC, sono entro i limiti imposti dalle normative vigenti. Senza contare che per il riesame, cioè sgroia, rulli e zarone, alcune segnalazioni sugli odori nauseabondi fatte dai cittadini non hanno trovato riscontro nelle verifiche della polizia giudiziaria. Per il GIP invece il valore di quelle toglianze era stato differente, con un richiamo ad alcune sentenze di Cassazione incentrate sul criterio esperienziale della torrellabilità. Il riesame ha invece richiamato altri provvedimenti di segno opposto secondo i quali non ci sarebbe reato nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata, come appunto le Pisano, mantenendosi entro i limiti di legge.